Domenica il Valle Soverato ospita Millennium Brescia, una sfida difficile, ne parliamo con Serena Bertone, il Soverato deve riscattare la brutta sconfitta subita a Collegno, quindi un'occasione importante. Sì, è una partita molto difficile perché ci sono ragazze molto giovani però molto brave e esperte, hanno parecchi colpi, oggi abbiamo visto video su di loro e sono molto brave, però speriamo di riscattare questo trend negativo che ci sta portando adesso in queste settimane. Facendo un passo indietro, tornando alla partita di Collegno sicuramente si poteva fare qualcosa di più sia dal punto di vista del gioco sia per la classifica, per muovere la classifica. Innanzitutto le tue condizioni, visto che a Collegno eri a mezzo servizio quindi sei stata disponibile parzialmente. Sì, sì, ho avuto qualche acciacco alla spalla però adesso mi sono ripresa e sto molto meglio. Collegno potevamo fare molto molto di più però ormai lasciamo al passato Collegno e pensiamo a Brescia. Iniziato praticamente da una giornata il girone di ritorno, bisogna cercare di invertire il trend anche perché in questo mese di gennaio vi aspetta un autentico tour de force. Sì, adesso ci aspettano quattro partite in due settimane quindi dobbiamo dare il massimo su tutte le partite e niente, speriamo bene. Coach Barbieri, domenica si affronta al Palascop a Millennium Brescia, una delle compagini più in forma del momento, reduce da otto vittorie consecutive. Quindi una sfida ostica, un soverato che deve riscattare il K.O. subito a Collegno sabato scorso. Sì, loro stanno facendo bene in questo ultimo mese e mezzo, sono una di quelle sette o otto squadre come si è detto all'inizio che possono ambire alla vittoria del campionato e perciò sappiamo che è una squadra veramente ostica, l'hai detto giustamente, noi non veniamo da un buon momento, abbiamo fatto una partita sotto tono con tutto rispetto degli avversari e sicuramente dobbiamo avere sicuramente un po' più di cattiveria, un po' più di germinazione, abbiamo parlato anche con le ragazze di questo e sono convinto che comunque già domenica ritroveremo il nostro ritmo perché adesso stiamo bene anche fisicamente. All'andata finì 3-1 per il Volle Soverato, le caratteristiche di questo Millennium Brescia che ha avuto un avvio altalenante però adesso ha trovato continuità di gioco e di risultati e guidata in panchina da un tecnico esperto come Mazzola quindi una squadra sicuramente da prendere con le consuete pinze. Sì all'andata abbiamo fatto molto bene, siamo stati aggressivi e abbiamo azzeccato tutto, sia l'aspetto tecnico che l'aspetto tattico questa comunque è un'altra partita, abbiamo visto a video le loro caratteristiche, è una squadra sicuramente che basa molto sull'attacco dei posti 4 sono due ragazze molto importanti sia sotto l'aspetto tecnico che fisico, sono molto potenti. Noi abbiamo guardato bene quali sono le loro caratteristiche e siamo convinti che comunque avendo qualcosina in più della difesa ci stiamo lavorando molto, possiamo dire la nostra. Soverato che dovrà cercare di riscattare le ultime due sconfitte consecutive, subita a cavallo tra la fine del girone d'andata e appunto l'inizio del girone di ritorno un Soverato che probabilmente si deve sbloccare più dal punto di vista mentale che tecnico. Sì, qua in casa abbiamo fatto un paio di prestazioni un po' pacche e ci sta, fa parte del gioco, di avere un momento di flessione peccato sotto l'aspetto mediatico che sono venuti in casa, però alla fine sono comunque due sconfitte, sei punti meno perciò dobbiamo, come abbiamo detto prima, avere qualcosa di più anche sotto l'aspetto caratteriale perché comunque tecnicamente ci siamo e abbiamo guardato anche i dati, siamo cresciuti rispetto al girone d'andata. Infine la partita di domenica fungerà anche da apripista, tra virgolette, ad un tour de force di partite quindi sarà importante anche dal punto di vista morale far risultato domenica perché poi c'è mercoledì il turno infrasettimanale poi di nuovo campionato e poi Coppa Italia. Sì, per un mese praticamente giocheremo sia la domenica che il mercoledì, per noi è molto impegnativo perché per noi le trasferte sono veramente lunghe, per gli altri sicuramente meno, però questo lo sappiamo devo dire che le ragazze affrontano queste situazioni anche con un certo entusiasmo, senza fasciarsi la testa perciò è un aspetto positivo, avremo poco tempo per allenare ma questo tutti perciò dobbiamo uscire carichi e essere pronti poi per la Coppa Italia.